Purtroppo non è partita la live 1.1 di Onkai Star Rail per noi europei, americani e giapponesi a causa di un terremoto di magnitudo 6.2 a largo di Tokyo. Si presume che i server siano Giappone, si presume che chiaramente questo terremoto importante abbia rallentato tutta la produzione e di conseguenza la live verrà effettuata domani mattina alle 5.30 ore italiane per tutti gli altri fuori dalla Cina. Ma per fortuna abbiamo potuto assistere su Twitch e io di questo vi ringrazio perché eravate tantissimi e ci siamo divertiti un casino. Abbiamo potuto assistere comunque alla live su Twitch guardando quella cinese su Bilibili e di conseguenza abbiamo capito la maggior parte degli eventi e tutto ciò di cui c'è bisogno di sapere per la nuova patch 1.1. Vi dico già che i codici presenti all'interno della patch 1.1 che avete visto nella live cinese non sono validi per noi perché a meno che non abbiate un account o abbiate impostato server in Cina, questi ultimi non vi daranno alcun tipo di ricompensa. Ma dovete aspettare domani mattina alle 5.30 i codici che saranno presenti all'interno della live o scoprirli dopo successivamente tramite i post per avere più informazioni. Partiamo dal primo banner. Il prossimo banner che sarà disponibile è fase 1.1.1. Silver Wolf, personaggio 5 stelle di tipo Nility Quantum, personaggio davvero interessantissimo sul quale abbiamo parlato spesso e volentieri e sul quale poi mi soffermerò per un video a parte per vedere se vale la pena pullare o meno. Detto questo avremo in rate up tre personaggi secondo me molto forti. Dan Hang, l'unico ant di tipo vento che abbiamo e che avremo probabilmente fino alla 1.2 con l'arrivo poi di Blade Destruction Vento ma per ora abbiamo solo lui. Vi invito ad andare a vedere il mio ultimo video sui leak, non sui leak perché non sono leak, ma sull'ufficialità dei personaggi tra 1.2 che sono stati dati direttamente da Mioio. Asta, personaggio Harmony tipo Fuoco, sappiamo tutti quanto sia forte Asta e nonostante quali problemi abbia di aggro. E poi abbiamo Serval, secondo me un personaggio super forte, Electro Erudition, che ha una capacità di rottura degli scudi, di applicazione dei DOT veramente fuori dal comune. Questo è un gran banner. Personalmente ritengo che questo sia un gran banner. Seconda parte del banner invece, quindi fase 2, avremo Loosha, Immaginary di tipo Abundance, quindi Healer, che, presumiamo e sappiamo, tecnicamente scali in attacco. Quindi sia un personaggio, oltre che essere un altro Healer alla nostra fare tra importante dopo Bailu e Natasha, magari non abbiate trovato una Bailu, sarebbe importante averlo, e anche di un tipo di elemento che è abbastanza raro, tranne Welth, ci sarebbe soltanto lui e poi Yukong all'interno di questo Immaginary. Al suo interno di questo banner avremo tre Rate Up. Yukong, personaggio nuovo di tipo Harmony, Immaginary, che sembrava, da quello che è stato fatto vedere all'interno della live, puntasse tantissimo sulla Speed anche al di fuori del campo con la sua tecnica. Sinzue, personaggi di tipo Erudition, Quantum, che vi ho fatto vedere in free-to-play, vi permette di andare in Simulator Universe 6, nonostante un po' il suo RNG, e di nuovo il ritorno di Nili Tijelo Pela, che è comunque un personaggio molto, molto, molto forte. Personalmente, al di là del netto di Yukong che devo capire bene cosa fa, e Loosha, che invece mi interessa tantissimo per quanto riguarda l'Abundance, in generale potrei dire che il primo banner è forse un pelo più interessante per quanto mi riguarda, anche se Loosha per me è un must-have, perché ho solo un healer, che è Natasha, e non ho personaggi immaginari. Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo un po' di eventi. Evento numero uno sarà quello presente nell'Herta Station, in cui noi dovremmo, tramite la storia di Silver Wolf, dal 19 di giugno, cercare dei graffiti all'interno dell'Herta Station. Questi eventi che ora vi andrò a vedere sono quelli che è un po' la ciccia che stiamo aspettando di riempitivo tra giugno e luglio, e che ci danno delle ricompense generiche, tra cui Stellar Jades e anche dei materiali per il level up dei personaggi. Una volta completato questo evento avremo anche la possibilità di ottenere la Lightcons nuova 4 stelle di Silver Wolf, che è molto carina perché all'interno, come potete vedere, ha anche tutti i pupazzetti del gufetto che è il caster dell'evento. Non sappiamo le sue statistiche ancora, che cosa abbia dentro, ma è comunque una Lightcons molto importante, cioè molto importante, che potrebbe diventare molto importante soprattutto per i free to play. Arriva l'evento del Museo Bellobog, quindi del Museo di Jarilo Six, dove dal 9 di giugno fino al 26 di giugno ci verrà chiesto di posizionare all'interno del museo degli elementi che ne incrementino il punteggio, in modo tale, come potete vedere, con il posizionamento di alcune mostre, di alcune cose da far vedere, aumenti il punteggio totale e di conseguenza sblocchiamo delle ricompense degli obiettivi. Quest'ultimo ci darà, come ricompense, ora io qua mi stavo facendo vedere giusto un paio di cose, giusto per non cadere nel copyright del video di Empty Shed, che comunque vi invito ad andare a vedere, ci darà la possibilità di ottenere uno di quei materiali per la creazione di un artefatto nostro, quindi con una main stat che scegliamo noi. Quindi è un evento molto molto importante, puoi ricordare per alcuni un pochettino quello che è il teapot, però mi sembra un po' più carino, un po' più ispirato rispetto al teapot. Avremo un altro evento all'interno dell'Earth Station, che durerà dal 28 di giugno al 10 di luglio, e sarà una semplice sfida all'interno di un susseguirsi di avventure, quindi di prove, che ci porteranno a ottenere delle ricompense. Queste prove saranno contro dei boss e dei mob all'interno di queste stanze, dove dovremmo probabilmente soddisfare dei requisiti. Niente di incredibile. Questo seguito da un altro evento, che parte dal 19 di giugno al 7 di luglio, contro un determinato dei determinati boss un po' più duri, dove appunto anche essi ci daranno delle ricompense. Arrivano delle nuove quest, quattro nuove quest. Una di Bailu, una di Yanqing, una di Losha e una di Silverwolf. Chiaramente quella di Losha e Silverwolf saranno probabilmente paragonate e messe all'interno dei propri banner. Quindi potremmo andare avanti e scoprire qualcosa della loro storia e avremo dell'avanzamento anche per quanto riguarda l'XP del nostro account tramite DS. Signori gioite, ci regalano 10 pool dell'evento speciale. Come vedrete, ora non so se è dal 18 di luglio o termina il 18 di luglio, penso termina il 18 di luglio, ma non sono preciso, non sono sicuro. Vi daranno una, una, due, uno, uno, uno e poi tre ticket dorati per fare i pool nei banner dell'evento. Quindi ci regalano 10 pool. Ora non so le compensazioni per i drammi subiti a livello della live, non penso ci daranno niente e non penso neanche debbano darci qualcosa, visto che purtroppo è stato un terremoto a bloccare e a fare tutto questo casino. Hanno aggiunto questa parte di cui io non sono molto sicuro, vi dico la verità, ovvero di questi nuovi, chiamiamoli così all'interno delle mappe, di questi nuovi luoghi dove potete ottenere dei materiali. Non so se sono dei Kalix o dell'altro, ma c'è la possibilità di teletrasportarsi e ottenere questi oggetti viola, o hanno semplicemente forse aggiunto delle risorse aggiuntive, ma l'hanno inserito. Oltretutto hanno messo a livello di quality of life la possibilità di interagire con la chat e con i vostri amici. Chiaramente hanno fatto vedere un po' del gameplay di Yukong, un pochettino delle sue dinamiche, che però io purtroppo non ho potuto interpretare né capire a causa della mia non possibilità di comprendere il cinese. Però sono sicuro che domani avrete più informazioni riguardo i personaggi. Ma questo di fatto era un po' il grosso di quello che sarà il contenuto all'interno della 1.1. Ci aspettavamo qualcosa, quel qualcosa è in parte arrivato. Non so chi continuava a dire che nella 1.1 avrebbero rilasciato la versione per PlayStation. Noi pensiamo a fine anno, non hanno detto niente riguardo a quella, quindi la domanda più importante che comunque scriverete sotto questo video è ZARGA, ma perché non è uscita? Esce per PlayStation? No, non l'hanno detto. Magari lo diranno in un altro momento, ma non l'hanno detto. Vedremo come potrà andare avanti ed evolversi all'interno di quello che è l'ecosistema Mioio e l'ecosistema videogioco che in questo momento sta prosperando con Zelda, Diablo, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI quando uscirà, gli annunci che poi comunque sono stati fatti in compenso con l'arrivo di Fontaine quando ci sarà poi il momento di vuoto, finirà il momento di vuoto di Genshi che in questo momento di fatto vive solo tramite l'evento delle carte. Detto questo, sono abbastanza soddisfatto nonostante la dinamica un po' traumatica di quello che è stato l'evento. Detto questo, vi ringrazio, vi auguro per la vostra attenzione vi ringrazio ancora per la pazienza e scusate se le informazioni non sono proprio precise al millimetro ma le difficoltà le hanno avute loro e di conseguenza anche noi nell'esporre tutto ciò che è stato detto. Vi auguro una buona serata, United State of Zero. Allora Allora